Abbiamo realizzato un'organizzazione assolutamente rigorosa cercando di contemperare al massimo le esigenze di tutela della salute di tutti ma nello stesso tempo anche di qualità della formazione e quindi la didattica a distanza prosegue in tutte le classi con modalità alternate tra attività didattica sincrona e asincrona. Oggi è un giorno importante ma lo è tutta questa settimana per i nostri studenti del corso di enogastronomia ma anche dell'indirizzo di accoglienza turistica. Stiamo svolgendo gli esami di qualifica regionale che sono un momento importantissimo per i nostri studenti degli istituti professionali perché consente di attribuire delle qualifiche di operatore immediatamente spendibili nel mondo del lavoro. Sulla base dell'ordinanza 92 della regione Abruzzo che parla di didattica in presenza in situazioni di riconosciute condizioni di necessità anche noi come diversi istituti alberghieri abbiamo oggi e per tutta la settimana lo svolgimento degli esami di qualifica. Si svolgono nei nostri laboratori in assoluta sicurezza, si svolgono in ampie aule areate con tutti i dispositivi di protezione individuale e con accessi canali diversificati di accesso in ingresso e in uscita. Si sta svolgendo tutto nella massima regolarità rispettando naturalmente il protocollo anti-covid, i ragazzi sono ben comunque preparati in questo, sono tutti molto veramente competenti anche su quello che è stato il percorso formativo, quindi insomma tutto nella massima regolarità nonostante le difficoltà della situazione. Come si stanno svolgendo questi esami? Che cosa devono fare i ragazzi e cosa esaminate voi? Noi ci occupiamo di verificare che è stato svolto un percorso di formazione professionale che tra l'altro si conclude dopo il terzo anno negli istituti professionali del territorio. Quest'anno per ragioni legate appunto al lockdown, al covid, non è stato possibile effettuare questi esami, svolgere questi esami a fine anno scolastico, quindi ai primi di giugno, tra fine maggio e primi di giugno. E quindi c'è stato questo slittamento al periodo autunnale, quindi adesso fortunatamente stiamo portando a termine questo adempimento.